Da sempre la politica agricola comune è al centro dei temi europei. Anche questa settimana a Bruxelles si è parlato di PAC. In questi giorni infatti Parlamento e Consiglio hanno discusso proprio del futuro del settore agricolo. I ministri dell'agricoltura hanno già trovato il loro accordo che sottolinea il ruolo predominante degli Stati e chiede loro un grosso impegno dal punto di vista del rispetto dell'ambiente. Gli eurodeputati invece hanno votato una lunga lista di emendamenti che servono a definire la posizione preliminare del Parlamento prima di far partire il negoziato a tre con Consiglio e Commissione. E proprio il commissario per l'agricoltura Janusz Wojciechowski ha ricordato quanto sia importante il settore agricolo. Fra i temi discussi al Parlamento ci sono la sostenibilità ambientale delle misure agricole, il sostegno al reddito degli agricoltori e le risorse a disposizione delle aziende più piccole e più giovani. Tuttavia quello che è stato fatto non è ancora abbastanza secondo l'euro parlamentare del Movimento 5 Stelle Dino Gianrusso. La PAC può essere davvero lo strumento per rilanciare l'Europa soprattutto adesso dopo la crisi Covid perché l'agricoltura ha enormi prospettive di crescita. Naturalmente ci vuole più coraggio e mi auguro che il Consiglio abbia molto coraggio perché noi come Parlamento stiamo facendo la nostra parte. Qualche preoccupazione per il centrodestra italiano, in particolare sulla questione delle etichettature e della denominazione dei prodotti agricoli. Ha spiegato Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d'Italia. Diciamo che la carne vegetale è ovviamente una contraddizione in termini. Sono delle forzature che si vogliono fare ma che veramente lasciano il tempo che trovano. Il Recovery Fund deve partire dal 1 gennaio perché i cittadini non possono più aspettare. Lo ha chiesto a gran voce il Premier Giuseppe Conte dopo aver incontrato il Presidente spagnolo Pedro Sanchez. Il piano, ha detto Conte, rifletterà riforme ambiziose e un programma di investimenti per una crescita più verde, più digitale e inclusiva a beneficio degli italiani, in particolare delle giovani generazioni. La produzione nelle costruzioni, secondo quanto rivela l'Istat, è cresciuta ad agosto del 12,9%, confermando la tendenza positiva iniziatra a maggio dopo le flessioni registrate nei mesi precedenti a causa del lockdown. Nel trimestre giugno-agosto si registra una crescita del 70,8% rispetto al periodo marzo-maggio 2020. Nei primi otto mesi dell'anno la produzione è diminuita del 14,4%. A settembre 2020 il mercato delle auto nell'Unione Europea ha registrato il primo aumento dell'anno. Secondo i dati ACEA, le immatricolazioni sono cresciute del 3,1% il mese scorso, raggiungendo 933.987 nuove auto vendute in tutta l'Unione Europea. I quattro mercati più grandi, tuttavia, hanno registrato risultati contrastanti, perdite in Spagna e Francia, mentre Italia e Germania hanno registrato forti aumenti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.